Ciao a tutti, oggi video molto breve, tra l'altro ve lo sto registrando alle 2 di notte di venerdì perché sabato non ci sarò tutto il giorno e quindi visto che ci tenevo comunque a farvi avere un video al giorno, sono qui a registrarlo perché sto per partire Video breve semplicemente perché volevo solo dirvi che ho aumentato la mia posizione in Westrock che per chi non lo sapesse è semplicemente un'azienda che si occupa di imballaggi di cartone ondulato che opera in praticamente tutti i continenti ma soprattutto in America, America Latina e Europa Durante questo video non andrò molto nei dettagli su Westrock semplicemente perché l'ho già analizzato tante tante volte sul canale quindi se avete piacere di analizzarla magari fate a vedere i video vecchi Ci tenevo ad aggiornarvi semplicemente perché nell'ultima volta in cui vi avevo parlato di Westrock vi avevo detto semplicemente che avevo intenzione di aumentare la mia posizione intorno a 30-32 che è sostanzialmente questa riga che avevo tirato e che era in corrispondenza di alcuni supporti e alcune resistenze che ci sono state in passato Ho già una posizione molto grossa in Westrock quindi o si è aumentato ma non troppissimo semplicemente perché non mi voglio esporre troppo A mio avviso sicuramente è una vita molto molto sottovalutata però ci sono alcune cose allo stato patrimoniale che adesso andremo a vedere che non mi convincono troppo e non mi fanno esporre così tanto sull'azienda Partirei subito con la cosa più importante che è il discounted cash flow dell'azienda La cosa che vi dicevo che non mi fa impazzire è il fatto che sia molto indebitata E questo è dovuto principalmente al fatto che negli ultimi anni hanno fatto alcune acquisizioni molto interessanti per ampliare il loro portafoglio ed espandersi soprattutto in America Latina Quindi inevitabilmente la parte cash che hanno adesso è molto bassa rispetto ai debiti Quindi vedete che hanno in cash praticamente solo 400 milioni e debiti ma soprattutto a lungo termine perché nel breve periodo se non ricordo male i debiti dovrebbero essere anche lì solo 500 milioni ed è sostanzialmente la cosa che mi fa stare abbastanza tranquillo Un'altra cosa che nonostante non abbiano un rating sopra il 6 per quanto riguarda il mio algoritmo mi ha fatto investire in Westrock è appunto il fatto che il rating è abbastanza tanto condizionato da appunto la situazione debitoria che è una situazione che stanno cercando di migliorare e che non dovrebbe essere difficile una volta che l'inflazione si sarà calmata ed è una cosa che sta già succedendo che se non ricordo male hanno anche fatto vedere durante la trimestrale e sostanzialmente facevano vedere quanto un aumento o una diminuzione del 5% sulle materie prime condizionava il loro utile per azione ed era una cosa abbastanza elevata adesso purtroppo non lo trovo più ma se lo trovo lo faccio vedere vabbè qualcosa molto interessante facevano vedere lo storico del free cash flow ed è un'azienda che pur avendo un pie molto basso perché adesso un pie intorno a 10 continua ad avere un free cash flow di un miliardo ed è un'azienda che capitalizza poco perché Westrock capitalizza 8 miliardi vuol dire che ha un price su free cash flow all'incirca di 8 ma la gente si fa condizionare tanto dall'utile netto che inevitabilmente è stato condizionato e si è abbassato a caso delle acquisizioni però la gente non lo sa non guarda il free cash flow e quindi pensa che in realtà Westrock stia andando male ma è un'azienda che continua ad avere un free cash flow positivo di un miliardo l'anno e questo gli permette di rilasciare un dividendo che è molto elevato perché attualmente abbiamo un dividend yield del 3% che più aziende scende e meglio è per noi perché possiamo appunto alzare il dividend yield e quindi a me va benissimo così che la gente continua pure a guardare l'utile operazione a me non interessa mi guardo il free cash flow e sono a posto questo invece è quello che vi dicevo prima ovvero quanto incide un aumento del 5% di queste materie prime sulle PS finale pensate che ogni aumento del 5% che c'è stato sul natural gas ha avuto un impatto negativo di 2 centesimi sull'utile operazione che è molto elevato e qua fanno vedere anche quanto un più 10% di rafforzamento del dollaro sulle altre valute ha impatto appunto sull'utile operazione e stessa cosa avviene nel momento in cui il dollaro si indebolisce quindi nel 2023 quando a mio avviso il dollaro continuerà a scendere questo può essere un effetto favorevole per noi attualmente il discounted cash flow mi dà una sottorotazione secondo il mio algoritmo all'incirca di un 21% se io vado a prendere due altri siti che fanno sempre un discounted cash flow che tra l'altro sono anche due siti che vi consiglio non mi pagano ma li trovo molto interessanti sono alfa spread che dà una sottorotazione del 27% e il simple wall street che dà addirittura una sottorotazione del 57% mi sembra esagerato quindi prendetelo con le pinze non so bene che modello stiano utilizzando attualmente su westrock però diciamo che il fatto che per tutti e tre ci sia una sottorotazione su westrock mi fa piacere per quanto riguarda invece la valutazione sui multipli a mio avviso abbiamo una possibilità ottima di guadagno da qua a 3 anni su westrock detto questo prendete sempre con le pinze quali sono le mie stime inevitabilmente le mie stime potrebbero essere condizionate dal fatto che io sono già l'interdizione quindi non mi permette di essere il più oggettivo possibile ovviamente io ho creato un algoritmo che cerca di togliere il più possibile le emozioni nella mia testa però ovviamente i dati che vado ad inserire sono miei e quelli degli analisti quindi inevitabilmente siamo un po' condizionati attualmente io vedendo la condizione attuale dell'utile operazione stimo una crescita da qua a 3 anni all'incirca di un 10-12% che porta l'utile operazione che adesso è 3,14 ha all'incirca 4,43 tra 3 anni e stimando un PE tra 10 e 12 dovremmo ottenere all'incirca un prezzo tra 3 anni di 53 considerando anche il dividend yield che otteniamo che all'incirca ha un 3 e passa per cento che vi dicevo prima il guadagno possibile è addirittura del 62% come vi dicevo il prezzo da 3 anni dovrebbe essere 53 che se voi vedete il grafico è un prezzo che fino a un annetto fa toccava quindi non mi stupirei ci tornasse da qua a 3 anni ovviamente sono mie valutazioni quindi ovviamente prendetele con le pinze però sostanzialmente sono fiducioso un'altra cosa che sicuramente mi fa piacere è vedere il price to book praticamente ai minimi che per un'azienda del settore industriale è molto interessante da considerare valori più bassi li ha praticamente solo avuti nel 2020 che è sostanzialmente quando sono entrato io infatti lo yield on cost che ho io del dividendo è molto elevato perché considerate che io alcune azioni le ho addirittura comprate intorno ai 20 non vorrei dire cavolate ma alcune azioni le ho comprate addirittura a 23 capite che un dividendo del genere è all'incirca un 5% è più un'azienda così stabile me lo prendo e super volentieri detto questo fatemi sapere se conoscevate l'azienda se avete piacere che vi porti aggiornamenti costanti su questa e niente ci becchiamo al prossimo video buon sabato a tutti